Avvio spumeggiante per la diciassettesima edizione del Festival Scienze Art Ambiente che per cinque giorni offrirà una full immersion nella divulgazione scientifica tra anteprime editoriali, spettacoli, incontri, laboratori, seminari, mostre interattive e multivisioni. Alla cerimonia inaugurale al Convento di San Francesco era presente l'assessore comunale Claudio Cattaruzza. L'attività culturale della città continua incessante, cinque giorni di appuntamenti con la scienza, una scienza sviscerata su tutti i punti di vista. Riteniamo che questa sia una manifestazione da incoraggiare, da sostenere e che nel corso del tempo è andata via via consolidandoti, sviluppando importantissime collaborazioni, coinvolgendo soggetti importanti come testimoniali, come relatori, enti e istituzioni scientifiche di primaria importanza come la Sissa di Trieste e quindi questo ci fa ben sperare per il prossimo futuro. Folto il pubblico che attento e divertito, ha seguito il brillante dialogo tra il noto filosofo della scienza Stefano Moriggi e Flavio Oreglio, lungo il filo della sua ultima fatica letteraria, presentata proprio a Pordenone in Prima Nazionale. Flavio Oreglio, ci si può divertire e ridere con la scienza? Sì, perché in realtà ci si può divertire e ridere con tutto, in quanto il sorriso, la risata è un atteggiamento mentale. L'importante è trovare il modo migliore per raccontarla, non sono mai gli argomenti che sono divertenti in sé, è il modo con cui ne parli che è divertente e quindi tu puoi prendere qualsiasi argomento, quindi anche la storia della scienza e renderlo divertente, piacevole e magari ci scappa anche qualche sorriso. Grazie.